Grazie a tutti per aver raccolto il nostro invito, per averci dedicato del tempo. Lei oggi scrive una lettera davvero interessante, proprio sulla prima pagina del tempo, la scrive ai politici. Ci vuole dire che cosa gli dice? Ma diciamo che il motivo, cari leader vi scrivo, è chiaramente caro amico ti scrivo, ieri era anche l'anniversario di Lucio Dalla, quindi c'era tutto questo attacco di pezzo. Ma ieri Monti ha scritto questa lettera ai leader politici e sembrava quasi che Monti dovesse rompere un po' il ghiaccio con i tre leader e fare in qualche modo, diciamo, riaprire i dialoghi. Esatto, riaprire i dialoghi e fare un po' da ponte. È chiaro che è abbastanza forzata come visione perché gli incontri che Monti avrà, stiamo vedendo, il primo lo avrà l'8 marzo con Berlusconi e sono tutti separati, per cui i tre leader non si incontreranno. Ma noi oggi abbiamo un'altra cosa, non sappiamo ancora quando Grillo andrà da Monti, però noi abbiamo una chicca che abbiamo messo anche sul nostro sito del nostro capo del politico che ci ricordava che il 24 novembre del 2011 addirittura, mentre Grillo cominciava a raccogliere grillini soltanto via web, fu lui a prendere carta e penna e scrivere a Monti e tra l'altro chiamandolo cittadino Monti, neanche onorevole, lei è stato nominato, deve aiutarci a superare il problema dello spread e io vorrei parlare con lei. Monti in quell'occasione non prese per niente in considerazione la lettera di Grillo e quindi non si sono mai incontrati. Adesso vediamo Grillo che cosa farà. Se ricambia con la stessa medaglia oppure no? Esatto, speriamo di no perché diciamo che Monti fa un incontro che è, come dire, nelle sue prerogative di premier di missionario, incontrare i tre leader perché l'Europa ci chiede di avere una linea unitaria e coerente per quanto riguarda le politiche economiche, quindi c'è di mezzo il paese e non i partiti, per cui Grillo dovrebbe comunque, come tutti gli altri leader, avere un senso di responsabilità. Poi c'è in piedi anche la formazione del governo e Grillo diciamo che è quello che sta tenendo tutti un po' sulla braccia perché non dà segnali. Anche oggi ha ribadito che ha smentito di aver detto che erano disponibili ad accettare un governo tecnico, ad appoggiarlo e quindi lo ha di nuovo smentito. Per cui siamo in una situazione di paralisi. Ecco, ma non le sembra opportuno smetterla a questo punto di inseguire i capricci di Grillo? Ieri aveva aperto al governo tecnico, oggi dice mai. E in fondo è dal primo giorno, ormai è una settimana, che dice che quello che è successo in questa tornata elettorale è la prima parte dell'attacco che lui vuole portare al sistema dei partiti. Come si può pensare di allearsi con un personaggio che ti vuole distruggere? Ma diciamo che è difficile pensare di allearsi con chi ti vuole distruggere. Diciamo che Grillo è arrivato dove è arrivato e i partiti dovrebbero fare un mea culpa veramente responsabile. Perché lui ci è arrivato per l'incapacità della classe politica di autoriformarsi. Non hanno capito che era necessario fare dei cambiamenti, fare i tagli, fare le riforme. E Grillo ha dato voce alla gente. E secondo me Grillo più che parlare alla pancia della gente, come diciamo sempre che Berlusconi parla alla pancia, Grillo secondo me è riuscito a parlare al cuore della gente. Cioè a dire noi possiamo, noi faremo, noi cambieremo. Adesso bisogna vedere che cosa la gente a questo punto vuole e che cosa Grillo vuole fare. Perché Grillo l'ha spallata al sistema dei partiti, l'ha data. Ma ora che cosa vuole fare? Vuole giocare allo sfascio? Ma lui l'ha detto che vuole fare però. E lui ha dato la prima spallata. Questo per chiarezza, questo è molto chiaro e trasparente. Lui ha detto, ho dato la prima spallata, adesso dobbiamo dare il colpo finale perché questa gente deve sparire dalla circolazione. Non è che si nasconde. Ma la gente non può sparire dalla circolazione perché come il 25% degli italiani ha votato Grillo, un altro 25% ha votato Berlusconi, un altro 26% ha votato Bersani. E quelli sono cittadini che hanno gli stessi diritti, sono portatori sani di richieste come i grillini. Grillo non può passare sopra col carrammato perché siamo in una democrazia. Ma su questo non c'è dubbio. Però quello che vuole Grillo si sa. Ma Grillo vuole, intanto noi dobbiamo fare delle riforme e adesso è entrata in vigore già la Tobin Tax, ci sono altre manovre economiche che entreranno in vigore entro aprile, entro giugno. Grillo non si sporca le mani, Grillo ci manda al massacro con un governo tecnico, Napolitano farà le consultazioni, non si arriva a nulla e saremo costretti a riandare ad elezioni. Ecco direttore, non lo vede come un controsenso? Io da cittadino elettore, avendo votato a fine febbraio, mi sentirei quasi presa in giro se costretta a tornare al voto fra pochi mesi. Io il mio voto l'ho dato. Ecco, poi riproporre l'alternativa di un altro governo tecnico, di scopo, istituzionale, come lo si vuole chiamare, per fare quelle riforme fondamentali che si dovevano fare, che si doveva fare nella passata legislatura del governo Monti, sembra un po' come riproporre un film già visto e finito male. Esattamente, infatti non solo è una presa in giro per noi elettori, per noi cittadini, ma è un colpo mortale a questo Paese, al sistema Paese che rischia veramente di rimetterci le penne, perché qui non riparte niente. Mi scusi direttore, questo è tutto vero e tutto giusto, però siccome ci sono, è premesso che i grillini non sono maggioranza assoluta, ecco, e si prendessero la responsabilità coloro i quali hanno più senso di responsabilità e senso dello Stato. Se hanno paura dei grillini, ne pagheranno le conseguenze. No, ma rimane tutto nelle mani di Napolitano, che naturalmente Napolitano dovrà fare, adesso darà sicuramente un incarico esplorativo a Bersani, Bersani non riuscirà ad uscire dalla palude e ci sarà poi probabilmente un governo di scopo con una, chiamiamola così, con una missione che sarà limitata nel tempo. Una agendina. Esatto. Da sviluppare. Una moleskin, siamo passati all'agenda, una moleskin. Alla moleskin, direttore. Senta direttore, si dice anche che i partiti consapevoli che poi nel prossimo futuro governo avrebbero comunque un peso ridimensionato, in realtà non siano tanto interessati a arrivare primi in questa gara nella terra di mezzo, diciamo così. Più che altro loro puntano a mettere la loro bandiera su quello che è un altro trono, che è quello del Quirinale. Lei che cosa ne pensa? È una dinamica che può rispondere al vero? È una dinamica che risponde al vero perché anche la rappresentanza al Quirinale ha la sua importanza, quindi i partiti sono interessati anche a quello. Purtroppo non si può conciliare le istituzioni attuali con la voglia di Grillo. Grillo non ha, come dire, quella di Grillo non è la democrazia rappresentativa a cui siamo abituati, è una democrazia diretta secondo cui il popolo è sovrano, il popolo decide. Non siamo in questa fase, non abbiamo questo genere di istituzioni. Come dicevo nel mio editoriale, ci sono le istituzioni e ci sono delle regole da rispettare. Anche Grillo, dopo le consultazioni di Napolitano, dopo quello che succederà, vedremo che farà. Se veramente vuole riportare il Paese alle urne, io spero che prima di questo sia stata fatta una riforma elettorale, perché forse con una riforma elettorale dove i cittadini possono scegliere i loro rappresentanti, potrebbero cambiare le cose. Perché se così fosse, secondo me, Grillo non è così certo che possa raddoppiare i suoi voti. Perché oggi gli italiani hanno votato a scatola chiusa, no? Sì, esatto. Senza sapere. Anche perché anche nel caso di Grillo hanno votato Grillo più che i suoi. Esatto, hanno votato Grillo. Infatti i grillini non li conosce nessuno. Hanno votato Grillo. Ma scusi direttore, siccome cercavo di capire perché tante persone, professionisti, dirigenti, persone di svariate astrazione sociale, votavano Grillo. Ecco, la risposta che io avevo era che neanche sapevano qual era il programma di Grillo. Utilizzavano questo voto al Movimento 5 Stelle per liberarsi delle facce, dei soliti noti che per anni non hanno combinato assolutamente nulla. Ecco, per cui in parte ci sono riusciti, perché finalmente non abbiamo fini di Pietro, e lo stesso Casini è fortemente ridimensionato. Però questo è, non è che uno vota Grillo perché c'è un programma. Votava Grillo perché c'era rabbia nei confronti di una classe politica incapace e inadeguata a tutto. Non hanno fatto nulla. Esatto, non si sono riformati come avrebbero dovuto. Per questo dico che gli italiani stanno vedendo quello che sta succedendo. Quindi mi chiedo se poi, a giugno non sarà possibile, ma a settembre potrebbero esserci le nuove elezioni, se poi quello che ha votato Grillo, perché pensava che Grillo avrebbe dato una spallata, ma poi comunque l'Italia sarebbe ripartita e non vede che tutto ciò non accade, e mi chiedo se quello stesso italiano rivoterà Grillo, che peraltro ci sta tenendo in questa situazione di stallo, dove anche la normalità stenta a ridecollare, perché anche l'incertezza che noi diamo all'estero non è un buon biglietto da visita in questo momento per l'Italia. Poi mi chiedo se c'è una riforma elettorale, se il candidato Pippo Rossi, precario, sconosciuto e più, se però poi riesce ad ottenere le preferenze che servono se ci sarà la riforma elettorale. Se non ci sarà la riforma elettorale e rivotiamo ancora a scatola chiusa, vabbè, allora vedremo che succede. Direttore, ma secondo lei i partiti si accorderanno per fare la riforma della legge elettorale oppure no? Hanno avuto mesi, anzi un anno e più di tempo per farla e non l'hanno fatta. Che cosa dovrebbe spingerli adesso a trovare un accordo? Beh, la paura. La paura. Adesso c'è Grillo che spinge, c'è la gente che lo chiede, se non lo fanno neanche adesso allora veramente. Fanno ricoverati. Esatto, verrebbe ad abbassare la Sara Cinesca e dire è chiuso per non lo so, fino a quando, fino a tempo indeterminato. Se fosse possibile bloccare un paese così ci stanno riuscendo. Ecco, io devo dire, lo ripeto senza stancarmi mai, io sono convinto che con Renzi in campo avremmo avremmo visto un altro film, non avremmo avuto Berlusconi probabilmente. Esattamente. è stata questa cecità del Partito Democratico che ha preferito chiudersi in se stesso e inseguire i movimentucoli alla sua sinistra che fare una grande apertura. Esatto, un'apertura che era quella che gli veniva dalle primarie. Abbiamo visto il secondo turno anche fatto in modo un po' farraginoso pur di evitare che Renzi andasse avanti e purtroppo queste sono le conseguenze per tutti noi ma soprattutto per loro perché Bersani probabilmente domani alla direzione non succederà nulla. però certo Beltroni si dimise col 30%, quindi Bersani è difficile che riesca a tenere ancora il partito, non dimentichiamoci che noi abbiamo anche le comunali a Roma e il PD anche romano comincia a fare le sue richieste, insomma la situazione proprio del PD non è tra le più tranquille direi. Direttore un'ultima battuta prima di salutarla, torniamo a parlare di corruzione, di nuovo oggi la notizia Scilipoti e Razzi indagati appunto per corruzione per l'indagine sul cambio di casacca per il voto di fiducia al governo Berlusconi nel 2010, quindi di nuovo il leader del PDL sotto i riflettori, di nuovo accusato, quanto peso avrà questo sulla capacità del PDL e anche di imporre una propria linea in questo momento di transizione o comunque di negoziare. Ma il PDL continua per la sua strada, mi pare che Berlusconi non ne tenga affatto conto. Lui ha il suo calvario personale, mi sembra iniziato. Lui ha il suo calvario personale, il 7 marzo c'è Mediaset, l'8 c'è processo Rubi e lui l'8 incontrerà Monti, insomma è in una fase molto delicata Berlusconi, credo che Razzi e Scilipoti teoricamente non gli creeranno altri problemi, perché poi i problemi si concentrano tutto sulla persona di Berlusconi, per cui queste inchieste poi alla fine sono talmente satellitari che più di tanto non servono. Ottimo, allora direttore noi la ringraziamo per questo intervento, magari la descriveremo. Scusate, la procura di Roma ha pure smentito che loro hanno aperto questa inchiesta, comunque su Razzi e Scilipoti, quindi vedremo se è una cosa vera o falsa, però la procura ha smentito. Sì, allora staremo a vedere direttore come si sviluppa, in ogni modo c'è ancora la denuncia di qualche giorno fa appunto di De Gregorio, quella resta e Berlusconi deve farci i conti, quindi vedremo come si sviluppa anche su quel fronte. Allora, grazie ancora al direttore del Tempo, Sarina Biraghi, per lo spazio che ci ho dedicato. Buon lavoro. Grazie, buonasera. 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 Arrivederci direttore, noi ci lasciamo per pochi istanti, restate con noi.